Misure chiare per la ripartenza e il rimborso degli abbonamenti per il servizio non effettuato durante il lockdown è una presa in giro. Lettera aperta dei comitati pendolari lombardi che in vista di settembre chiedono notizie certe sulle modalità di utilizzo del trasporto ferroviario. Sono migliaia i residenti in provincia di Lecco che ogni giorno prendono il treno per lavorare e studiare a Milano. Ai disagi purtroppo noti per i problemi annosi ora si somma l'incertezza dell'applicazione delle norme per evitare la diffusione del coronavirus. La regione Lombardia ha infatti autorizzato la circolazione dei treni utilizzando tutti i posti disponibili a sedere, scaricando nei fatti, dichiarano i pendolari, la responsabilità della sicurezza sanitaria solo sugli utenti. I pendolari chiedono quindi alle istituzioni di intervenire e sollecitare le ferrovia una maggiore manutenzione del materiale rotabile a controlli sul rispetto delle norme da parte dei viaggiatori, fornendo nel caso mascherine e altri dispositivi a chi ne fosse sprovvisto. Inoltre, gli utenti del servizio ferroviario esigono non solo il ripristino della totalità delle corse dimezzate durante il Covid, ma anche un incremento delle stesse. Infine, la questione dei rimborsi. I gestori del trasporto pubblico locale, spiegano i pendolari, vogliono restituire la quota dei due mesi di marzo e aprile, ma non i successivi. Una autentica presa in giro per moltissimi pendolari in cassa integrazione o in smart working in posti dall'emergenza sanitaria, i quali i gestori, in particolare Trenord, avevano sempre assicurato che sarebbero stati rimborsati gli abbonamenti per l'intero periodo di mancato utilizzo.